Con la benedizione del Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia è stata posata la prima pietra per l'edificazione della nuova ala del Palazzo di Città di La Mascotella a Molfetta. L'edificio consentirà l'accorpamento di quasi tutti gli uffici comunali in un unico luogo. Francesco Rossi. È uno dei tanti obiettivi che in questi tre anni e mezzo di lavoro fatto con passione stiamo realizzando. L'obiettivo dichiarato nel programma amministrativo è quello di unificare la gran parte degli uffici comunali. Qui verranno gli uffici di ragioneria, tributi, di modo che il palazzo oggi Carnicella vicino a San Domenico sarà svuotato e sarà un grande edificio che sarà restituito alle attività pubbliche della città con altre attività. Così come qui verrà tutto l'ufficio della socialità svuotando tutta quell'altra ala che è connessa al Palazzo della Musica in modo che Molfetta avrà il più grande spazio, credo, della regione dedicato alla musica perché si andrà in continuità. Questi sono quegli obiettivi di questi tre anni e mezzo che sono costati fatica, impegno, passione. Probabilmente la passione, come diceva una vecchia canzone, spesso conduce a sbavare nei comportamenti ma sono gli atti di amore verso una città in cui da questo alle tante altre iniziative che abbiamo realizzato stanno a testimoniare questi tre anni e mezzo di intenso lavoro. Qui sarà la casa comunale, quindi più funzionale, con parcheggi e quindi si avrà una concentrazione senza sbattere il cittadino da una parte o dall'altra per avere il suo servizio. La casa dell'amministrazione e la casa del bene comune che tutela la collettività civica evidentemente ha bisogno di un supporto, ha bisogno di un incoraggiamento che io voglio esprimere e invocare da parte del Signore proprio quest'oggi in un clima di grande prova, di grande tribolazione se vogliamo però di grande fiducia. Il nostro Signore ci ha detto che proprio bisogna patire prima di risorgere prima di intravedere la luce nuova di un nuovo giorno. Io invoco una grande benedizione quest'oggi sulla collettività di questa bella città, Morfette, città della pace, città dalle mille risorse pertanto io ho tanta fiducia che dopo questa parentesi di pandemia, di grande tribolazione il giorno di Pasqua si avvicina sempre di più.